Si sono concluse all'alba di ieri intorno alle 4.30 le prove di carico effettuate sul viadotto Gatto rientranti nell'ambito delle attività di monitoraggio in corso dal mese di maggio. Indagini strutturali programmate dall'amministrazione comunale di Salerno ancora prima che si verificasse la tragedia del ponte Morandi di Genova e che serviranno a monitorare il livello di sicurezza del ponte che collega la zona portuale con lo svincolo autostradale. I controlli hanno interessato le sei campate maggiormente sollecitate dal peso dei veicoli che quotidianamente percorrono il viadotto. Ben sei camion del peso di 50 tonnellate ognuno hanno testato la resistenza dell'infrastruttura ad effettuare rilevi una società salernitana che opera nel settore dal 2008. Una prima precisazione, tutte le attività che stiamo svolgendo in questi giorni, dal monitoraggio che è già partito da tempo alle prove di carico che sono state svolte la notte scorsa, oltre altre indagini che saranno fatte nelle prossime settimane, sono state previste nell'abito di un incarico che a gennaio scorso l'amministrazione ha promosso per individuare una società che potesse garantire questo tipo di attività. Quindi al di fuori di quelle che sono poi... Altrimenti non ci sarebbero stati i tempi per dare il via a tutti questi controlli subito dopo la tragedia di Genova. Assolutamente, diciamo, potevamo prevedere, scusatemi la battuta, una tragedia di quel tipo che si è registrata a Genova. Quindi questa è un'attività già programmata da tempo. Le stesse prove di carico rientravano nel bando e quindi tra gli impegni che l'impresa doveva assumere per garantire il monitoraggio dell'infrastruttura. Per collettezza aspettiamo l'elaborazione dei dati che si svolgerà, credo, nel giro di 15 giorni, anche se sinceramente ho assistito alle prove che sono fatte nel rispetto chiaramente delle norme specifiche che riguardano infrastrutture di questo tipo, con i pesi specifici che bisognava garantire e cosa che abbiamo fatto, però sinceramente sono moderatamente fiducioso che l'evoluzione ci possa rassegnare un quadro del viadotto Gatto che non presenta particolari difficoltà. Prossimi step, quali dovranno essere? Sinceramente il prossimo step riguarderà un'ispezione direttamente sulla testa dei piloni e dell'attacco tra il pilone e la trave, anche perché si sono individuati dei pozzetti che garantiscono l'accesso al sistema delle trave e c'è la possibilità di raggiungere e verificare diviso le condizioni dell'appoggio tra la trave e il pilone e credo che poi alla fine, fatta questa ulteriore indagine, avremo il dato definitivo che chiaramente per correttezza attendiamo quando ci sarà rassegnato dalla ditta incaricata. Resta però aperta la questione relativa al doppio senso di circolazione in via Benedetto Croce è un'ipotesi che state ancora verificando, valutando o avete già riposto nel cassetto l'idea di riaprire al doppio senso di marcia quella parte, quell'arteria stradale? Io già l'ho rassegnato in altre occasioni dal mio punto di vista noi dobbiamo immettere dispositivi non sulle menti emozionali tant'è che non ci siamo fatti condizionare dall'evento del Via Tutto Gatto né della vicenda relativa a Genova e al Morandi ma ci determiniamo sulla scorta di approfondimenti nel caso specifico l'università che sta elaborando il piano generale del traffico urbano il cosiddetto PCTO che ha predisposto tutte le cosiddette interviste monitoraggio di flussi di traffico, quante auto passano, da dove arrivano quale è la loro portata come peso, oltre che le provenienze eccetera ci consentirà di poter eventualmente valutare quali sono i migliori dispositivi di traffico da inserire per garantire un sistema di mobilità più efficiente quindi al di là dell'acquemozione o la valutazione del momento noi seguiamo criteri scientifici e ci fidiamo dei professionisti in questo specifico caso dell'università che elaborerà una propria valutazione